Difficile prevedere come si concluderà il braccio di ferro nel campo largo del centro-sinistra tra il Partito Democratico e gli altri partner della coalizione. Sulla carta i giochi sarebbero fatti, tranne l'area che fa riferimento al segretario Nellupizza e al consigliere regionale Maurizio Petracca nel Partito Democratico. Tutti gli altri si sono espressi a sostegno della candidatura di Antonio Gengaro proposta da Controvento e non dal Partito Democratico. Buon ultima, sia pure da qualche contorsione dialettica, arrivata sinistra italiana. Ammette che Gengaro è divisivo ma si impegna a sostenerlo. Questo sulla carta, sul terreno, però le cose sono un po' diverse. Torna un elemento che da qui abbiamo proposto in tempi non sospetti, quando cioè Gengaro non era neanche lontanamente alle viste e che riguarda il campo largo. Ed è il seguente, Gengaro o Mister X che sia, come sosterrà il campo largo il suo candidato a guidare il comune di Avellino? Cioè ciascuno dei partner, a cominciare da quelli che intendono guidare la partita, presenteranno ognuno una lista per sostenerla, una lista che non sia soltanto un elenco di 32 nomi preso magari dall'elenco del telefono. La domanda che si pone è dirimente, cioè non è che scegli o imponi un candidato e poi devono sbrogliarsela gli altri. Chi dovrebbe rispondere a questa domanda dice che quella delle liste è l'ultima cosa. Sono convinti che sarà lo Spirito Santo ad occuparsene e così sia dunque.